Ogni generazione di console ha un E3 che rappresenta il suo canto del cigno, ed è esattamente ciò che lo show Los Angelino di quest'anno ha cercato di essere, l'ultimo ondata di giochi per gli hardware di questa generazione, più ambiziosi, grandi e belli di quanto si sia mai visto. Proprio come il tramonto della scorsa generazione ha portato dei giochi incredibili a salutare gli hardware Xbox 360 e PlayStation 3, pare che anche le console di questa generazione abbiano riservato il meglio per la fine. In un certo senso è inevitabile che sia così, visto che si tratta di titoli sviluppati da persone con ormai anni di esperienza sulle spalle, che hanno imparato come costruire una solida struttura di gameplay e hanno seguito le tendenze e i gusti del pubblico. Nonostante ciò, sebbene molti dei titoli che abbiamo potuto vedere durante le 3 avevano il termine canto del cigno stampato a fuoco su di essi, la fiera di quest'anno non ha avuto lo stesso impatto. Per certi versi il motivo è da ricercarsi nella situazione attuale delle aziende titolari delle varie piattaforme. Nintendo è ancora chiaramente agli inizi del ciclo vitale di Switch, mentre le performance piuttosto deludenti di Microsoft in questa generazione si traducono nella volontà del colosso di Redmond di parlare del futuro piuttosto che sedersi sugli allori del presente. Sony, dal canto suo, è la compagnia che guadagnerebbe di più dal protarsi della corrente generazione e la sua assenza allo show si è fatta sentire. A ogni modo, comunque, non sono questi i fattori che hanno spogliato le 3 2019 e il suo ruolo di canto del cigno, piuttosto il senso di continuità che il mercato delle console ha assunto negli ultimi anni. Sappiamo infatti che sia Microsoft che Sony stanno operando un aggiornamento parecchio lineare del proprio hardware esistente, il che potrebbe culminare in una retrocompatibilità quasi universale su una piattaforma next-gen. E inoltre ciò potrebbe rendere semplicissima la re-release degli ultimi giochi lanciati su PS4 e Xbox One, anche su PS5 e la prossima Xbox. Di conseguenza, molti dei consumatori che hanno guardato gli annunci e i trailer di nuovi titoli sembrano partire dal presupposto che quelli saranno i giochi definitivi di questa generazione. Non solo il canto del cigno del vecchio hardware, ma anche l'avanguardia del nuovo. Ovviamente non è un fenomeno completamente nuovo. Nintendo adotta questo tipo di strategie da tantissimo tempo, come quando ha lanciato quasi contemporaneamente The Legend of Zelda Twilight Princess tanto sul Venerando Gamecube quanto sul nuovissimo Wii. La cosa interessante è come ormai anche i videogiocatori si siano abituati alla maniera in cui gli ultimi titoli di una generazione di console vengono rilasciati, viste le pergresse esperienze come GTA V e The Last of Us, che come tanti altri titoli hanno ricevuto una nuova mano di vernice digitale e sono stati rilanciati sulla console successiva. Si è trattato però di un passaggio più impegnativo di quanto sarà quello per la transizione prossima, specialmente sul versante PlayStation, visto come il passaggio a PS4 è stato un'importante e gradita differenza rispetto all'architettura proprietaria PS3. E per questo motivo possiamo aspettarci che la cross-gen diventi lo standard piuttosto che l'eccezione nel corso dei prossimi anni. Questo modus operandi è ragionevole e, a dirla tutta, nonostante avrà sicuramente i suoi detrattori, specialmente dal momento che alcune di quelle versioni potenziate probabilmente non presenteranno grossi miglioramenti, ci sembra una mossa piuttosto positiva, poiché darà alle nuove console una solita base di giochi belli e raffinati fin da subito, mantenendo al contempo felici i proprietari delle vecchie console. Si tratta di una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, anche se, ovviamente, un maggior numero di titoli esclusivi sul nuovo hardware sarebbero un buon traino per le vendite. Questo aspetto, secondo noi, è piuttosto importante, perché, anche senza considerare il software che farà da ponte per le due generazioni, siamo già alle porte di una transizione generazionale che potrebbe rappresentare un cambiamento radicale per il mercato di massa. Alcuni aspetti del nuovo hardware sono indubbiamente impressionanti e il focus particolare sulla presenza degli SSD è interamente giustificato dalla differenza sostanziale che questi potranno rappresentare per molti giochi, ma il passo avanti in termini di fedeltà visiva e capacità di calcolo non sarà tangibile come per la scorsa generazione. Questo concetto è ulteriormente acuito dall'esistenza di Xbox One X e PS4 Pro, le cui capacità 4K sono state gli aggiornamenti più graditi di questa generazione, ma che, senza dubbio, hanno privato la prossima di quello che sarebbe stato uno dei più grandi punti di forza. La riduzione del divario tra le generazioni è inevitabile, ovviamente, ma questo, in combinazione con i software cross-gen, avrà significative conseguenze su come si evolverà la prossima generazione nei suoi primi anni. Siamo per assistere all'annuncio di nuovi hardware che saranno molto simili ai precedenti, sicuramente potenziati ma non al punto da far cadere la mascella. Queste nuove piattaforme, inoltre, saranno emesse sul mercato con un iniziale parco titoli molto simile a quello della generazione precedente. Siamo sicuri che ci saranno tantissimi videogiocatori che aspettano con trepidazione il momento di fare questo upgrade, ma per molti altri la sensazione sarà quella di un passaggio generazionale sensibilmente meno di impatto rispetto al passato. E non bisogna escludere per niente l'ipotesi che PS4 e Xbox One potranno coesistere con i loro successori per diverso tempo, molto più di quanto abbiano potuto fare le macchine delle precedenti generazioni. Naturalmente non è un dato totalmente negativo, visto che se gestita correttamente la possibilità di abbassare il costo di quell'hardware, che ha mantenuto i suoi prezzi nel corso di questa generazione in maniera notevole, mantenendosi sul mercato insieme a una nuova console, potrebbe contribuire ad aprire nuovi sbocchi. Soprattutto considerando che queste vecchie console non saranno effettivamente obsolete nel senso tradizionale, poiché i giochi che acquisterete per l'all gen rimarranno probabilmente fruibili anche se si passa al nuovo sistema. E molti nuovi titoli non è da escludere che continueranno ad avere le loro versioni all gen per qualche anno a venire. Il futuro tuttavia non è tutto rose e fiori, visto che la probabile sopravvivenza della corrente generazione di hardware potrebbe diventare una sorta di mercato parallelo per parecchi anni. E costringerebbe sviluppatori e publisher a creare dei giochi che supportino le vecchie console più a lungo di quanto desidererebbero fare. Non possiamo fare a meno di pensare all'MMORPG di Square Enix, Final Fantasy XIV, il cui successo è stato ostacolato dalla necessità di continuare a supportare il gioco su PlayStation 3 allo stesso modo delle versioni PS4 e PC, per molti degli anni successivi alla transizione generazionale delle console. I giochi non online avranno sicuramente meno problemi sotto questo punto di vista, ma allo stesso modo potrebbero soffrire di una frammentazione del processo di sviluppo, che tante compagnie potrebbero trovare frustrante da gestire. Su che cosa punteranno effettivamente Sony e Microsoft per gestire la loro strategia next-gen è ovviamente ancora da vedere. In linea generale, Sony dovrebbe riuscire a garantire un certo equilibrio mantenendo vita PS4 e rendendo contemporaneamente attraente PS5, mentre Microsoft potrebbe essere più incline a rompere del tutto i legami con la sua generazione. Nessuno dei due colossi, tuttavia, sembra voler competere apertamente con l'altro come che in passato. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi Sony risponderà in maniera adeguata all'annuncio di Project Scarlet fatto da Microsoft nel corso delle 3 2019, però lo show Los Angelino ha messo in evidenza ciò che la gente desidera maggiormente. L'arrivo della next-gen, stavolta senza canti del cigno. Visto che ormai è certo che tutti i titoli che usciranno alla fine di questa generazione saranno disponibili anche sulla prossima, questo significa solo una cosa. La transizione verso la prossima generazione sarà la più fluida e probabilmente la meno esaltante di sempre. Grazie a tutti.